Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale, scusatemi sono giorni un po' complicati per me, infatti vedete che ieri non ho fatto il video, sono rimasto anche super indietro sui commenti, ma oggi vedrò di rimettermi in pari. Ma noi siamo sempre concentrati sull'AI Cup, Magnus Karzen ha battuto Maxime Vachelagrave e attende di conoscere in poltrona il vincitore del tabellone dei ripescaggi per poi giocarsi la finalissima. Ed è proprio questo il match di cui ci occupiamo oggi, una delle partite decisive che ci dirà chi si contenderà la finalissima proprio contro Karzen. I due giocatori sono il francese Vachelagrave con i pezzi bianchi ed il russo Nepomnici con il nero. E allora non dimenticate di like al video e vediamo com'è andata. Perché Vachelagrave di bianco apre la partita con E4 e allora Nepo risponde con E5, cavallo in F3 e di nuovo cavallo in F6, la difesa russa. E allora il bianco come sappiamo cattura il pedone e sappiamo anche che il nero prima di riprenderlo deve scacciare il cavallo, tant'è che Nepo gioca D6. Nel 95% dei casi il cavallo bianco torna in F3 e invece a mo' di Karzen, che l'ha utilizzata spesso, Vachelagrave, torna indietro col cavallo in D3. E tra qualche mossa si capirà cosa vuol fare questo cavallo. E allora il nero giustamente si riprende il cavallo in E4, donna in E2, attacca il cavallo, lo inchioda sul re. Quindi non si può pensare di difendere il cavallo giocando D5, perché F3 gli vince il pezzo. E allora ci vuole donna in E7, che non solo protegge il cavallo, ma lo schioda anche. Allora, e qui si vede l'utilità del cavallo in D3, perché il francese gioca cavallo in F4. E guardate qual è l'idea? Salto del cavallo in D5, che attacca la donna. E la donna purtroppo protegge anche la casa C7. E allora qui ci vuole o C6 o come ha giocato Nepomnici, cavallo in F6. E allora cosa fa il bianco? Spinta al centro in D4, donna per donna in E2 con scacco. L'alfiere ricattura, cavallo in C6. Il pedone viene protetto giocando C3 e anche il nero prende il suo spaziettino al centro con D5. Arriva F3, che non è neanche molto giocata, ma utile, perché vedete? Toglie l'avamposto E4 al cavallo del nero. Nepo gioca cavallo in D8 per ricentralizzarlo in E6. E allora, in questa posizione, pensate, una sola partita rimasta in database del 2019, tra due forti grandi maestri, finita in parità nella quale il bianco aveva giocato G4. Cosa può servire questa G4? A non far sviluppare l'alfiere campo chiaro. E invece arriva la novità di Vashla Grav, che mi sembra buona. Re in F2, la partita dopo 11 mosse diventa originale. Alfiere in D6, cavallo in A3. Questa è una mossa giocatissima, perché guardate, il cavallo minaccia di togliere al nero la coppia degli alfieri, perché poi questo non si può mica spostare, sta attaccando anche C7. E allora, mossa migliore giocare C6. Il cavallo viene riportato indietro in C2, alfiere in F5. Cavallo in D3. Adesso cavallo in E6 rimane ottima. L'unica cosa a occhio si vede che limita un po' le possibilità dell'alfiere campo chiaro. Può dar fastidio G4. Allora, prima di giocare cavallo in E6, Nepo gioca H5. Alfiere in G5 attacca il cavallo e minaccia di sciupare la struttura piedonale. Però attenzione, qui bisogna fare un ragionamento molto logico. E con il nero che non ha arroccato, forse forse, l'apertura della colonna G favorisce proprio il nero. Allora, non bisognerebbe spostare il cavallo come ha fatto Nepo, che ha giocato cavallo in D7, che è sicuramente un'imprecisione. Cosa bisognava fare? Bisognava giocare H4. Come mai H4? Perché altrimenti, se si gioca dopo H4, cavallo in E6. H4 serve a non far giocare H4 al bianco? Perché se il nero avesse giocato subito cavallo in E6, si poteva difendere col pedone, con l'idea di aprire la colonna H in caso di cambio. E invece arriva il cavallo in D7. Come dicevamo, un'imprecisione. E guardate, la difesa russa, secondo il mio modesto parere, io non l'ho mai giocata, ma ho visto tantissime, ho analizzato tantissime partite. Addirittura il maestro del dotto era un esperto della difesa russa, e sarà ancora un esperto della difesa russa. Secondo me è una difesa ottima contro qualsiasi tipo di giocatore, fino a grandi maestri. diventa veramente un po' sul filo del rasoio contro questi top players, perché il nero è costretto a giocare sempre mosse, anche strategicamente perfette. E allora, dopo il cavallo in D7, che cosa succede? Cavallo in E3 attacca l'alfiere, ma l'alfiere si era aperto la via di fuga, quindi alfiere in H7, alfiere in F4. Ora, questo alfiere del nero mi sembra particolarmente buono, e allora non mi dispiace per niente, non mi dispiacerebbe alfiere in E7, e invece arriva re in E7. E allora il francese gli cambia gli alfieri scuri, alfiere per alfiere in D6 con scacco, il re la ricattura, cavallo in F4, pedone sotto attacco, bene, avanza in H4, G3 lo attacca, G5 attacca e difende, il cavallo torna indietro in F2 e arriva anche H3. Buona, buona azione di Nepo. Cavallo sotto attacco si porta in E1, arriva finalmente cavallo in E6. Alfiere in D3, strategicamente, mi sembra una mossa da punto esclamativo. Come mai? Perché avevo pensato, guardate, Vashjelagrav vuole cambiare gli alfieri chiari, perché si è reso conto che i suoi cavalli sono più forti dei cavalli del nero, che vedete non hanno grandi possibilità offensive. E allora arriva torre in A che va in F8, e qui pensavo al cambio invece alfiere in F5. Allora, vashjelagrav, non aveva capito niente, aveva soltanto migliorato l'alfiere. Allora, alfiere in G8, buona questa mossa, lo tiene sulla scacchiera. Cavallo in D3, e qui cavallo in G7. Alfiere per cavallo, il re ricattura in D7, cavallo in G4. Rimangano forti, però, questi cavalli. Allora, F6 gli toglie la casa centrale E5, ma arriva cavallo in C5 con scacco, il re costretto a tornare indietro in C8. Ora, guardate, l'unica negatività dell'alfiere in G8 è che disconnette le torri. Allora, guardate, colonna centrale aperta, torri disconnesse, torre in H che va in E1, veramente una mossa logica che si gioca da sola. Torre in H7, a cosa serve? Ora, qui, naturalmente, quando uno si è preso la colonna, la prima cosa che vorrebbe fare, occupare, addirittura guardate con quale minaccia, la settima traversa con torre in E7. Dopo questa torre in H7, torre in E7 sembra non funzionare, tant'è che Vashelagra giocherà la buona torre in E2. Eppure, guardate il computer cosa avrebbe fatto. Torre in E7 avrebbe giocata lo stesso. Cavallo in F5 attacca la torre e la torre del nero difende insieme al re B7. Torre per torre in H7, l'alfiere ricattura, cavallo in E6. Attacca la torre, unico difensore del pedone in F5. Torre in F7, e qui un sacrificio veramente da computer, cavallo per pedone, la torre ricattura, cavallo per pedone, attacca l'alfiere sospeso, alfiere in G8, arriva prima G4, se il cavallo avanza non fa altro che migliorare il re. Cavallo in D6, re in G3, re in D8 per evitare l'entrata, anche se c'era il cavallo, ma almeno il cavallo è libero di muoversi. Il cavallo cattura, praticamente, un pezzo, un cavallo per tre pedoni, ma tre pedoni passati, è una brutta posizione per il nero. Ma questa è un'idea da computer. E allora, Vashila Grav ha giocato torre in E2, B6 scaccia il cavallo, cavallo torna indietro in D3, re in D7. A4, con l'idea anche di A5, e allora A5 la gioca Nepo, dopo 32 mosse, siamo arrivati al nostro quizzone. Da un punto di vista strategico, c'è una mossa ottima a disposizione del bianco. E allora, mettete pure in pausa se volete, e da voi la parola. Ritorniamo subito a noi. Con i pezzi del nero un po' bloccati, e allora aprire delle linee sicuramente favorisce i pezzi del bianco, che sono tutti attivi. E allora B4 è la mossa forte. E guardate, qui l'idea è proprio di catturare. Dopo andare col cavallo in C5, torre in B1, si fa brutta la faccenda, perché vedete, questo va a sbattere contro il suo pedone, questo bloccato dal cavallo, questa torre è costretta a difendere. Insomma, brutta posizione. E allora A per B4, il cavallo ricattura, si minaccia A5, in modo tale da consegnare anche la seconda colonna aperta alla torre, e arriva a C5. È un po' un'imprecisione, e allora qui probabilmente si potrebbe anche subito cambiare, addirittura creare il pedone passato, arriva un'altra buona mossa, cavallo in D3. Ve l'ho lasciata in descrizione, questa linea del cambio dei pedoni, al posto di spostare subito il cavallo. E allora C per D4, C per D4, cavallo in E6, pedone sotto attacco, ma Vashila Grav punta a rifarsi su un altro pedone. Torre in B2, cavallo per pedone in D4, torre che cattura in B6. Torre in E7, attenzione all'entrata della torre sulla seconda traversa, e allora arriva torre in A2, alfiere in E6, vuole sciupare la struttura pedonale, allora il cavallo si porta in E3, torre in A8. Cosa deve fare il pedone passato? Quando può avanzare? Deve avanzare. E allora arriva A5, re in E8, A6, per evitare gli scacchi, ha spostato il re, re in F7, cavallo in C5, torre in A che va in A7, torre in D2, e attacca il cavallo. E allora cosa fa il nero? Anche lui si vuole rifare sul cavallo del bianco, torre in E7 che va in C7, il cavallo sotto attacco si porta in B7, gli è rimasto al nero il cavallo sotto attacco, e arriva il cavallo in C6. Qui naturalmente da una posizione di vantaggio, spesso e volentieri, da una posizione in cui i pezzi sono più attivi, spesso e volentieri esce fuori il colpo tattico, il colpo tattico c'è, ed il francese lo vede. Arriva infatti torre per cavallo, torre per torre, doppio di cavallo da D8 con scacco, re in D7, cavallo per torre, torre sotto attacco, se non altro guadagna un pedone, cavallo in D4, minaccia di cambiare i pezzi con un pezzo di vantaggio, e allora alfiere in F7. Arriva G4, che permetterà anche re in G3, oltretutto, guardate, rende difficoltoso poi l'avanzare dei pedoni del nero, re in G6, re in G3, torre in A3, attacca il cavallo, ma il cavallo si porta in F5, i due cavalli si proteggono a vicenda, il che vuol dire che la torre può entrare in gioco, quando vuole il bianco, eliminerà anche il pedone in H3, con un pezzo di svantaggio, Nepomnici, abbandona. E allora con questa vittoria, ottenuto vincerà anche la partita successiva di Nero, Vasce da Grave, si guadagna una seconda possibilità, contro Magnus Karzen, e spero e credo, perché mi sembra in forma il francese, che giocherà un bel match. E allora spero che questa partita vi sia piaciuta, naturalmente continueremo a seguire la finalissima, ma se non siete ancora iscritti al canale, vi chiedo gentilmente di farlo, per aiutarmi a farlo crescere, come al solito vi ringrazio tantissimo per l'ascolto, e noi ci vediamo domani con un nuovo video. A presto!